Siamo qui in diretta dal teledizio di un ingresso in campo Stanley Cup Pure Ross contro i The Gunner Con pagine che conosciamo molto bene Quest'anno si esibiscono nella Sunday E tra le scorse edizioni Partecipavano alla Super Squadre rinforzate Andiamo alla Magna Il capitano di The Gunner Le Pure Ross Con il competino Scattato giallo Splendido invece il competino di The Gunner E' tutto pronto? Possiamo dare inizio al match? Qua Bello Bombastuto giallo Sini Con il modo sulle Il capo acca . Barbo Podcast Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.